Parliamo di giovani, giovanissimi, minori e locali da ballo che sicuramente rappresentano per i giovani un momento importante della loro settimana e lo facciamo per una proposta che è arrivata direttamente dai gestori dei locali da ballo che si sono riuniti in congresso nazionale l'altro giorno che hanno evidenziato il problema ad enimo dei minori che abusano di alcol nelle discoteche e hanno lanciato una proposta, provocazione molto interessante Buongiorno Maurizio Pasca, presidente Silb Fipe, buona giornata presidente Buongiorno a voi Allora voi avete detto che i genitori devono essere responsabilizzati, come si responsabilizzano i genitori secondo la vostra proposta? Ma innanzitutto le dico che la nostra non è una proposta provocazione, è una proposta seria, concreta Ah, l'avevo letta con una sommatura anche di provocazione invece No, no, assolutamente no, noi ci renderemo promotori al punto di che sia una proposta accettata anche dal governo Allora, negli ultimi dieci anni il consumo di alcol si è digitato, però di contro abbiamo un aumento per quanto riguarda il consumo è una fascia di età che va dai 13 ai 17 anni Sì, è vero Ogni giorno noi assistiamo a ragazzi che vanno in coma etilico per abuso di alcolici e superalcolici Certamente i responsabili di tutto ciò vengono sempre additati i pubblici esercizi Sì, però il più delle volte non viene somministrato dal pubblico esercizio l'alcol perché sappiamo perfettamente che è un divido di legge che non si può Allora si aggira all'ostacolo, naturalmente l'amico che è maggiore N del minore N va al bar Si fa dare la levanda alcolica e naturalmente poi la gira al minore N Però come spesso accade sono sempre sanzionati i pubblici esercizi Allora a questo punto noi richiamiamo alla responsabilità anche le famiglie ossia come avviene per il problema del fumo dove naturalmente viene trovato a fumare in luoghi pubblici viene sanzionato Altrettanto vogliamo che venga fatto all'interno dei pubblici esercizi Il minore che viene trovato a bere e bevande e superalcoliche deve essere sanzionato Certamente la sanzione non può pagarle al minore e a quel punto entra in gioco la famiglia Anche perché io ritengo che le fondamenta dell'educazione del giovane sia la famiglia Diciamo da qui la nostra proposta Quindi voi dite nel momento in cui il minore viene trovato all'interno del locale pubblico che beve Uno ovviamente voi dite verificare se c'è stato qualche esercente Effettivamente c'è stata la somministrazione da parte dell'operatore o del cameriere o del barman In quel caso deve essere sanzionato il locale Però qualora non è stata somministrata dal barman ma è stata somministrata dall'amico maggiorenne Allora deve essere sanzionato il minorenne Ma allora scusi anche l'amico maggiorenne oltre ai genitori in fondo ha fatto qualcosa che non doveva fare Certamente Anche perché voi dite diversamente dovremmo chiedere ai nostri associati di vietare l'accesso nei locali ai minori di 18 anni Che per voi rappresentano una fetta importante delle entrate perché si parla del 10% Ma diventerebbe anche un grande visaggio per le famiglie perché più che nel passato oggigiorno i giovani E anche giovanissimi ripeto perché adesso frequentano anche i 13 anni 14 anni vanno in discoteca Perché lo permettono ai genitori certamente questo Io genitore mi chiederei se mio figlio 14 anni alle 4 del mattino dov'è insomma Allora a quel punto noi eviteremmo di far entrare i minori di anni 18 nei nostri locali Ma avete avuto qualche riscontro da associazioni dei genitori non lo so qualche apertura Al momento no ma nel prossimo giorno è in programma di chiedere un incontro con il presidente dell'ACI Appunto sui genitori italiani Sarà interessante capire anche voi Però da parte loro ancora non c'è giunta nessuna notizia E stanno pensando bene a cosa dirvi No però se uno la vuole pensare in termini positivi sarebbe bello così anche avere in mente Una sorta di alleanza tra gestori e genitori per far sì che i ragazzi si divertano ma senza alcol Diciamo che si fa la più attenzione da parte delle famiglie nei confronti dei loro figli Interessante torneremo a parlarne grazie Maurizio Pasca presidente della Silve Fipe Buona giornata